La musica che ascolterete, racchiusa in ogni traccia audio, racconta e trasmette lo sforzo e l'impegno di ciascun aluno per la realizzazione di questo progetto. Il mixaggio degli audio sincronizzati con i video, opera dei nostri insegnanti, rappresenta l'entusiasmo che ci ha permesso di sperare le difficoltà, lavorando nel pieno rispetto delle normative e il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Toccatina in a San Martani, per un santo di 8 ore, passo elettrico e sette di batteria. Arrangiamento a cuore del prop Learco Spigarelli. Buona visione! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti